Come vedete nella slide il titolo di questi nostri due incontri è Oimee come somiglia il tuo costume al mio che come sappiamo è un verso del passero solitario, uno degli idilli inserito nella raccolta dei grandi idilli anche se in realtà è stato scritto prima del 2830. Il titolo mi pare che raccolga, esprima abbastanza bene quello che voglio dire. Innanzitutto è chiaro che ci sono due termini di paragone. Leopardi si paragonava al passero solitario, nel nostro caso lo scelto invece perché noi ci paragoniamo a Leopardi. Il tema un po' che vorrei affrontare è quello dell'attualità di Leopardi, della sua contemporaneità e anche perché in questo verso c'è una parola chiave, costume, su cui rifletteremo nel corso della nostra chiacchierata. Oggi, l'incontro di oggi si sofferma su un'opera abbastanza sconosciuta, rimasta tale per molto tempo, che è il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Un'opera che affronta un tema politico, quindi non parleremo oggi della poetica di Leopardi, del suo stile, del suo linguaggio, dei suoi temi che un po' tutti conosciamo, insomma, grazie alla scuola. Parleremo invece del Leopardi politico, direi antropologo, etnologo, acuto osservatore dei mali della società del suo tempo. Insomma, tutta una serie di aspetti che fanno parte di quello che a scuola ci hanno definito, ci hanno insegnato a chiamare il pensiero filosofico leopardiano. Pensiero filosofico che è stato per moltissimo tempo sottovalutato. Infatti Leopardi è sicuramente l'autore della letteratura italiana, diciamo, moderna, che più ha patito di letture fuorvianti, di banalizzazioni scolastiche e non solo. Per cui sulle sue opere, sui giudizi che i vari critici hanno espresso su di lui, si è un po' stratificata una crosta di forzature interpretative, non facili da smuovere, diciamo. Ci sono delle ambiguità, insomma, interpretative. Diciamo che la svolta in questo percorso avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale, un saggio fondamentale di Cesare Luporini del 1947, a cui fa seguito dal titolo abbastanza indicativo che è Leopardi progressivo. Luporini si soffermava in modo particolare sulla ginestra e sull'ultima fase cosiddetta eroica di Leopardi. A questo saggio fa seguito anche la Gervini, con la sua poetica leopardiana. Poi ci sono altri scritti di Sebastiano Timpanaro, di Cesare Muscetta, tutti critici che fanno parte di quell'area, diciamo, che ha una evidente, una chiara matrice marxista, che addirittura individuano, in modo particolare Luporini, nell'ultimo Leopardi, addirittura dei prodromi, diciamo, del pensiero socialista. Aspetto questo che lo stesso Luporini poi ritratta, perché effettivamente, anche se Leopardi parla della social catena, non possiamo arrivare a dire proprio una sorta di profezia socialista, cioè lo stesso Luporini se ne rese conto. Diciamo che anche un altro grande filosofo, poi negli anni successivi, negli anni 60, 70, Emanuele Severino, non marxista, non storicista, ammette, ritrova in Leopardi degli elementi di pensiero estremamente importanti. Certo, il pensiero leopardiano non è sistematico, non costituisce qualcosa di organico, ma ritrova degli spunti a cui si rifaranno filosofi poi successivi estremamente importanti, come Nietzsche, oppure il quasi contemporaneo Schopenhauer o Kierkegaard. Quindi ci sono aspetti che possiamo definire così appartenenti alla filosofia morale che sono di peso, sono particolarmente importanti. Perché allora è pesata su Leopardi questa visione così assolutamente negativa, tanto che così un po' a scuola per generazioni si è tramandata l'immagine del poeta solitario, triste, quasi di un nichilista rassegnato e disperato. Ma perché è pesata in tutta la storia della letteratura italiana da De Santis, che dopo un primo giudizio positivo poi si orientò verso una valorizzazione esclusiva della parte poetica, il giudizio di Benedetto Cruce, che considerò di nessun peso e usò per Leopardi la famosa espressione di vita strozzata e tutto questo messo insieme ha fatto sì che di Leopardi si è soltanto visto la parte malinconica, la parte il cantore della luna, del nativo borgo selvaggio e basta, e soltanto. Quindi escludendo, come dicevo, la parte consistente del pensiero. Ormai, da alcuni decenni tutto questo è superato, siamo assolutamente tutti d'accordo nel considerare che pensiero e poesia sono due facce della stessa medaglia. D'altro canto c'è anche da dire che il contesto stesso in cui Leopardi è vissuto, i salotti letterari che ha frequentato, sono stati abbastanza pesanti, trancianti nei suoi confronti. Ci siamo? Sento delle voci? Dicevo quindi che la società culturale dell'Ottocento lo ha, proprio per il pensiero, per le idee che esprimeva, ha dimostrato nei suoi confronti un'aperta avversione, aggravata anche da molti pregiudizi, quindi erano spesso giudizi che esprimevano un certo anche risentimento nei suoi confronti. La vera ragione è che la sua filosofia si allontana dai toni del riformismo liberal-cattolico delle magnifiche sorti e progressive, insomma, di cui parla Leopardi, riprendendo questo verso di Terenzio Mamiani, che era tra l'altro poi suo cugino. E quindi si voleva... la sua visione della vita era poco gradita, poco popolare. e quindi anche la sua opera, diciamo, in cui questi pensieri sono più espliciti, più chiari, è stata in parte o ignorata o denigrata. la sua... forse la persona che l'intellettuale, una figura estremamente interessante, che più aveva anche capito le potenzialità di questo giovane poeta così... che veniva da un paese conosciuto da nessuno, Re Canati, è stato Pietro Viesse. Il Viesse è una figura di intellettuale mecenate di origine svizzera che però si trasferisce a Firenze e a Firenze fonda un... apre un... un luogo di dibattito culturale, il famoso gabinetto letterario, scientifico e letterario, in cui gli intellettuali avevano modo di confrontarsi su temi più diversi, più disparati, temi politica, economia, diritto, letteratura... ed era... questo gabinetto letterario si apre nel 1820 e poi l'anno successivo Viesse, proprio per diffondere ancora di più un po' in tutta Italia questa sua visione di una apertura culturale, apre... fonda una rivista a cui contribuiranno tutti i nomi più illustri del romanticismo e poi anche il risorgimento italiano. Penso a Pietro Giordani, amico di Leopardi, mentore di Leopardi, Pietro Colletta, lo stesso Mazzini, Raffaello Lambruschini, anche Alessandro Manzoni, un pochino più tardi, nel 27, quando andrà a Firenze, dopo la famosa pubblicazione ventisettana dei Promessi Sposi, andrà soprattutto perché intende fare una revisione linguistica del suo lavoro, andrà, soggiornerà, frequenterà questo luogo estremamente ricco di fermenti letterari nuovi. Leopardi in questi ambienti si è sempre sentito, come lui stesso dice, in un passaggio dello Zibaldone, dice, io in questa compagnia conversante, così chiamava i salotti, mi sono sempre sentito un absent, un assente, come un cieco e un sordo, non si sentiva considerato, aveva qualche timore spesso a esprimere le sue idee, come dicevo, estremamente impopolari e quindi ha avuto sempre difficoltà nello stabilire un rapporto con, diciamo, gli ambienti culturali e non solo, anche con le case editrici, case editrici è forse un termine anche un po' troppo moderno, ma insomma con gli editori. Anche l'editore più noto, quello che pubblicherà poi le operette morali, che è Antonio Fortunato Stella di Milano, insomma anche con lui Leopardi avrà dei rapporti non proprio facilissimi e forse aveva anche ragione Leopardi. Dico soltanto questo perché sono interessanti questi per capire insomma un po' il rapporto difficile che può avere un intellettuale con il mercato letterario, editoriale, eccetera. Quando soprattutto ciò che dice dissona dall'idea dominante, come dirà nella Ginestra, oblio preme a chi troppo all'età propria increbbe. Quando si è scomodi, quando non ci si accoda il pensiero dominante, beh il risultato non è proprio molto piacevole. Dicevo Stella, Stella nel 27 quando intende pubblicare le operette morali, su suggerimento sempre di Pietro Giordani che aveva invece ben compreso la grandezza di questo nostro poeta e pensatore, beh Stella vuole pubblicare le operette morali che tutti conosciamo per la complessità, la bellezza della forma, dello stile, la ricchezza inventiva, la profondità del pensiero che in esse è espresso, beh voleva pubblicare queste operette morali in una collana che lui aveva ed era la collana, dico il titolo perché capiamo subito, Biblioteca amena ed istruttiva per le donne gentili. Insomma un piccolo ghetto che lui aveva di letteratura femminile in cui queste operette proprio Leopardi non poteva accettare che fossero collocate lì, insomma. La seconda proposta che Stella gli fa è quella di pubblicare le operette a puntate, così sezionando il pensiero organico che viene espresso nelle operette, appuntate un po' per volta, cioè quindi togliendo quella armonia, quella sistematicità che le operette invece hanno. Per fortuna poi dopo varie raccomandazioni da parte di Pietro Giordani Stella accetta la pubblicazione per intero di queste operette. Chiedo scusa a Franca, un attimo solo, c'è una persona che si collega con un telefono Huawei e pregata di chiudere il microfono, altrimenti disturba. Sì, è questa qua proprio. Io da qui non riesco a disattivare di l'audito, un po' per tale motivo. Potrebbe essere della Mariella. La persona che è collegata con il telefono Huawei è pregata di chiudere il microfono. Adesso va bene, grazie. Prosegui pure Franca, scusami. Ok, dicevo che il maestro a pensé di quel momento storico e che ha avuto un ruolo determinante in questi giudizi così complessivamente negativi nei confronti dei Leopardi è stato Niccolò Tommaseo. Il suo è un giudizio netto, senza ammissione di replica, diciamo. Definisce le primissime operette che erano già state pubblicate, quattro operette da Viese, prima della pubblicazione con Stella, di un'arrogante mediocrità. Parla di opera fredda e aggiunge che l'opera ispira odio. Quindi non soltanto poi lo definirà late o triste, empio e querulo. Quindi aggettivi estremamente pesanti e definitivi, insomma. Ma anche, e questo è l'aspetto che più farà arrabbiare, diciamo, Leopardi, lo sappiamo sempre dallo Zibaldone, un misantropo. Quindi un misantropo che con il suo pensiero spinge all'individualismo, al rifiuto dei legami sociali. Questo fu un aspetto che è veramente una contraddizione, non è ammissibile con quello che... C'era veramente della malizia, ecco, da parte di Tommaseo. Ma Tommaseo era molto importante nel panorama culturale del tempo. I suoi giudizi pesavano. Altri hanno parlato, accodandosi al giudizio del Tommaseo, di insopportabile malinconia, di tristezza affettata, quasi facesse finta di, di nessuna idea nuova. Aggiungo anche un altro giudizio, che è famoso questo, di un filologo svizzero, Louis Desinés, che attribuì la visione pessimistica di Leopardi alle sue malattie. E questa era la cosa che fece arrabbiare Leopardi. Infatti gli fa una lettera di risposta in cui dice che piuttosto che accusarlo con questa volgarità, usa proprio questo termine, di accusare le mie malattie, perché sente che è un'offesa alla sua intelligenza, come se lui avesse esteso a livello cosmico la sua personale condizione e non avesse invece attinto a tutto il pensiero sensista, materialista, la sua visione della vita. E quindi gli dice che ha espresso una vera volgarità e che piuttosto si procuri di confutare le sue posizioni, le sue critiche, magari più che legittime, nei confronti di Leopardi, attraverso, altrettanto, con argomentazioni valide. Quindi un altro elemento, voglio dire, che ci fa capire come Leopardi un elemento, anzi poi vi dirò un altro, un elemento che ci fa capire come Leopardi non sia affatto un misantropo è proprio il discorso di cui poi andremo a parlare. Oltre a questo discorso, ben articolato, complesso, di cui appunto parleremo, c'è un altro fattore, un altro evento, un fatto che non si è compiuto ma che era nella testa di Leopardi. Lo sappiamo sempre dallo Zibaldone. Cioè un progetto, il progetto di una lettera ad un giovane del ventesimo secolo. Intitolato proprio così. Questo doveva essere il titolo di quest'opera. La enuncia nello Zibaldone nel 24 riprende questa idea nel 28 però poi segue il periodo diciamo più lirico e seguono degli eventi e non lo porta a termine. Esaminiamo cioè un poeta che pensa nel suo intimo di rivolgere un messaggio a un giovane di generazioni future del secolo futuro. Quindi è un uomo pieno di tensione e di speranza in un futuro ma anche in un ascolto da parte degli altri. Quindi non è uno che si chiude e che si isola e non cerca diciamo così di dare un suo contributo a un miglioramento anche della vita collettiva. Quindi tutto questo contraddice l'immagine su cui si potrebbe ragionare a lungo perché la scuola italiana la critica letteraria ci ha invece tramandato un'altra idea di un piagnone insomma che è veramente offensivo nei confronti di colui che è stato considerato che è considerato da Nietzsche il più grande poeta dell'età moderna e contemporanea. Nietzsche voglio dire. Quindi non è un misantropo ecco sicuramente ha vissuto in quel periodo nel periodo intendo il 24 dal 20 al 24 un periodo di trasformazione sappiamo tutti che ci sono delle fasi nel pessimismo leopardiano c'è un crescere un mutare un evolversi soprattutto dopo l'incontro prima epistolare poi reale concreto con Pietro Giordani che fu ospite a casa sua nel 18 e che lo porta a una riflessione profonda ad abbandonare la struttura culturale che lui aveva grazie al padre all'ambiente che frequentava e quindi le 4500 pagine dello Zibaldone sono fittissime sono ricchissime di notte di riflessioni in questo periodo e quando avverte Leopardi il passaggio da una condizione di poeta erudito sul modello dei poeti del mondo classico a filosofo questo passaggio che è poi accompagnato anche dall'abbandono della religione cattolica e c'è una sua conversione verso come dire la filosofia ormai è sempre più netta tanto che il padre dirà che dopo in una sua lettera che dopo il soggiorno di Pietro Giordani a Re Canati suo figlio è cambiato e dice Pietro Giordani me lo ha guastato quindi attribuisce a questa diciamo a questa presenza in realtà è ovvio che non fosse così anche se è vero che l'ambiente canatese era un ambiente ristretto un ambiente da cui Leopardi voleva uscire forse pensando che andando a Roma a Firenze a Milano potesse incontrare tanti altri stimoli di cui sentiva ormai la necessità infatti nel 22 dopo varie insistenze il padre gli consente di andare a Roma dai parenti che avevano ci sta ci sta cinque mesi che lui definisce cinque inutili mesi perché lo delude questo ambiente l'ambiente chiaramente papalino estremamente conservatore pieno tra l'altro di imbrogli intrighi della dell'aristocrazia appunto della piccola poi aristocrazia papalina sente che l'ambiente romano non è particolarmente stimolante diciamo così per un eufemismo e torna e torna ricanati sul finire del 23 e vive intensamente questa crisi questa insofferenza verso una poesia erudita verso i miti le illusioni che non sono più parte dell'uomo contemporaneo e quindi non possono più essere la voce dell'uomo dell'inizio dell'ottocento insomma sente che deve cercare e alla disperata direi ricerca di una poesia sentimentale che possa esprimere invece le convinzioni la visione dell'uomo diciamo che ha vissuto lo smascheramento di questi miti di queste illusioni che cullavano il mondo invece antico e quindi la fine del 23 e poi il 24 fino al 28 è una fase di abbandono della poesia lirica che pure si era espressa già nei piccoli dilli è quella di silenzio poetico in cui Leopardi si dedica invece a tutta una serie di ricchissima di letture di riflessioni ulteriori rispetto alla profondissima cultura che già aveva e soprattutto ecco alla costruzione del suo del suo pensiero il 24 è l'anno in cui lo Zibaldone si arricchisce del maggior numero di pagine più di 1500 pagine scrive lo Zibaldone che cito spesso è veramente la fucina il laboratorio in cui si vede questa mente effervescente ricchissima che non si stanca mai per dire nei cinque mesi del soggiorno romano scrive 40 pagine dello Zibaldone nel dal maggio 23 fino tutto il 24 ne scrive 1600 quindi tanto per dire confronto quindi lo Zibaldone è così il filo rosso su cui noi costruiamo che accompagna tutto il percorso del pensiero leopardiano scusa Franca se posso interrompere un attimo sì dimmi siamo sempre fermi alla prima slide noi è giusto così sì sì siamo sempre lì perché adesso entro nell'argomento scusami tanto no no per carità ecco allora entriamo entriamo appunto in quello che è l'opera che volevo esaminare e che è appunto il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani un'opera che non era che non è stata conosciuta per decenni infatti pubblicata nel 1906 quindi fino al 1906 nessuno l'aveva letta è un'opera non conclusa completamente che Leopardi scrive nel marzo del 1824 interrompendo la stesura serratissima delle operette morali l'occasione di questo discorso è data dal VSE che sempre sul suggerimento di Giordani invita Leopardi a scrivere un articolo di natura diciamo così letteraria e anche come dire geografica in qualche modo cioè a fare un po' un excursus sulla letteratura su ciò che di nuovo circolava nel panorama letterario italiano Leopardi non se la sente dice ma come io mi sento un abitante extra mundum vivo qui isolato non ho conoscenze non ho frequentazioni non posso assolutamente fare un lavoro del genere insomma e quindi rinuncia ad accontentare il VSE ma ma scrive qualcosa di diverso corregge un po' il tiro diciamo così e si dedica a questo discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani un testo fitto di considerazioni 40 pagine circa 40 45 pagine diciamo che la interlocutrice un po' più o meno esplicita di quest'opera è Madame De Stal una figura su cui non mi soffermo che però insomma normalmente si conosce importantissima per dare l'avvio al romanticismo europeo lei di origine ginevrina francese antinapoleonica aveva già scritto un'opera sulla maniera e l'utilità delle traduzioni un'opera da inserire in quel contesto storico particolare perché siamo all'inizio dell'ottocento in un momento in cui c'è un desiderio di aprire le frontiere di conoscersi e quindi aumentano ovviamente anche le traduzioni che sono lo strumento fondamentale per conoscere le opere che vengono pubblicate negli altri paesi quindi ci sono molti fermenti di novità ma aveva scritto anche pubblicato nel 1807 quindi una quindicina di anni prima dell'opera leopariana un romanzo saggio intitolato Corinna o l'Italia Corinna o l'Italia che è un romanzo di una storia d'amore insomma abbastanza complicata tra un inglese e una poetessa italiana ma insomma a noi ci interessa la parte anche di saggio in qualche modo cioè là dove Madame de Stal inserendo un po' le sue esperienze del viaggio del famoso viaggio in Italia che anche lei aveva fatto inserisce dicevo delle considerazioni sui costumi degli italiani su come sono gli italiani sui nostri caratteri nazionali visti da lei straniera Leopardi riprende un po' questo tema cioè vuole indicare in quest'opera sa che parlerà diciamo così sa già che parlerà proprio del carattere degli italiani del loro modo di vivere l'esistenza del di quegli elementi profondi che caratterizzano il costume quello che lui chiama il costume degli italiani quest'opera tra l'altro sapendo che andrà a dire andrà a dire aspetti non proprio simpatici del carattere degli italiani usa spesso dei giri di frase delle perifresi periodi lunghissimi ci sono periodi lunghi pagine quindi non è di facilissima lettura diciamo così non è particolarmente snello proprio per un pochino mascherare l'essenza di quello che andava a dire sugli italiani però accanto a questo aspetto c'è indubbiamente anche l'elemento rigoroso lo dice subito Leopardi all'inizio che vuole esprimere analizzare osservare ed esprimere ciò che sono gli italiani dal suo punto di vista ovviamente con estrema lucidità razionalità senza rascondere niente e senza essere così generoso come spesso sono invece gli stranieri quando parlano dell'Italia perché effettivamente in quel periodo vari sono gli scrittori francesi tedeschi anche che venendo in Italia osservano sia gli aspetti paesaggistici artistici del nostro paese ma ovviamente anche avendo a che fare poi con il popolo italiano esprimono giudizi e sono sempre molto generosi forse questa generosità si spiega anche perché nel diciamo così questa Italia che negli ultimi secoli era stata così bistrattata divisa e aveva patito dominazioni francesi spagnole eccetera sta risorgendo sta vivendo una sua diciamo ripresa una sua rinascita e quindi sono abbastanza generosi e anche incuriositi indubbiamente da questo nostro paese il tema centrale di quest'opera è una riflessione quindi arriverà a parlare dei costumi degli italiani partendo dal tema centrale che lui vuole affrontare qual è questo tema centrale è una riflessione sui legami che possono essere fondativi diciamo delle moderne società europee moderne società europee cioè l'Europa le nazioni europee che stanno che hanno avvissuto tutto un percorso di scientifico culturale filosofico che ha diciamo portato anche a scoprire la verità che ci ha liberato anche da tutto il pensiero che lui ancora definisce oscuro del medioevo dai scioplusi dalle vessazioni dalle false credenze dai miti eccetera quindi il pensiero è andato avanti si è superata una fase estremamente pesante di guerra tra 6-700 concluse con la rivoluzione francese però c'è questo grande risveglio delle nazioni europee che è uno degli elementi fondamentali del romanticismo quindi i paesi sono andati avanti hanno progredito e hanno maturato una moralità questo progresso civile filosofico ha però determinato un danno a suo dire a livello morale nei comportamenti cioè l'uomo si è riscoperto egoista individualista e quindi il pensiero moderno filosofico è distruttivo sul piano dei legami sociali perché ha fatto esplodere questi aspetti più negativi dell'individuo sono caduti i nobili il nobile sentire del mondo antico i valori alti dell'eroismo dell'animo nobile dell'amor di patria dei grandi valori delle grandi passioni quindi si è venuta a creare una contraddizione tra la necessità di vivere ancora nelle società nella società perché questo è ineliminabile non può vivere individualmente l'uomo quindi le società sono fondamentali però nello stesso tempo sono venuti meno questi legami sociali è questo il tema centrale che lui vuole analizzare insomma sostanzialmente come le società possono sopravvivere dopo la strage delle illusioni come lui stesso la definisce e quale ricaduta a tutto questo poi nell'etica civile del quotidiano dei rapporti tra lo stato e l'individuo è chiaro che Leopardi rifiuta subito l'idea perché se noi portiamo avanti questo discorso che ho fatto lo portiamo alle estreme conseguenze l'ipotesi unica è quella della dissoluzione della società di una sorta di apocalisse dell'umanità ipotesi che neanche prende in considerazione e anche questo mi pare che sia un elemento che giochi a favore di un Leopardi che non è affatto un misantropo tra l'altro in questo discorso c'è un accorato bisogno di crearsi una società e una grande amarezza nel constatare quanto noi italiani invece facciamo fatica a vivere in modo costruttivo le nostre società in questo in questo discorso c'è una empatia un senso di amarezza ma anche di speranza che qualcosa possa cambiare e che possa rendere in qualche modo vedremo quale ipotesi lui fa in qualche modo anche la nostra società e le altre più delle altre società europee soffre di questa mancanza di legami sociali di un forte sentire di un senso della convivenza del senso dello Stato ecco che anche il nostro paese possa recuperare e avviare una fase una fase nuova in questo discorso non c'è mai pur nell'amarezza il sarcasmo che magari ha Leopardi in altre opere quando parla di politica quando parla degli orientamenti politici del suo tempo penso alla Palinodia al Marchese Gino Capponi penso alla Batra Comiumachia lì è veramente irriverente corrosivo qui no mai mai anzi c'è sempre questo tono di empatia quando lui definisce gli italiani di cui pur vede i limiti i difetti strutturali proprio direi della loro natura non c'è mai dicevo un giudizio pesante negativo diciamo disperato ma c'è anzi sempre la grande fiducia in qualche modo che si possa rinascere diciamo così facendo leva su se stessi chiaramente quindi c'è questa profonda quest'analisi del popolo italiano che non ha che nella sua storia diciamo così si è sempre comportato in un determinato modo cioè come in modo lui dice diverso dagli altri paesi perché ciò che ci differenzia non è tanto il livello culturale che bene o male culturale lui intende il livello della il progresso della civiltà della tecnica della scienza pur ammettendo che l'Italia è rimasta un pochino indietro rispetto agli altri lui dice ha un percorso di civiltà incompleto ma insomma per dire poi di fatto che eravamo un po' indietro soprattutto per quanto riguarda il più diffuso tasso di analfabetismo per tante ragioni che adesso non stiamo ad esaminare quindi c'è un po' di ritardo però insomma in linea di massima lui dice dice con opinioni appresso a poco conformi noi e gli altri paesi essa cioè l'Italia è di costumi notabilmente diversa dagli altri popoli civili ed essendo di costumi non notabilmente diversi quindi c'è un'grossa discrepanza la conseguenza è anche che questa etica civile questo modo di vivere le relazioni sociali è molto è molto diverso dove sta la differenza il fatto che noi dice Leopardi non abbiamo costumi abbiamo usi e abitudini cioè il costume che dà anche forza le leggi cioè negli altri paesi gli altri paesi non è che siano più buoni migliori di noi che sia non è così sciocco da dire una cosa del genere però negli altri paesi per varie ragioni storiche culturali ambientali anche in questi altri paesi pensa alla Francia pensa all'Inghilterra pensa alla Germania in questi paesi c'è un costume radicato cos'è il costume per Leopardi è quel substrato come dire etico culturale profondamente radicato che diffuso condiviso da tutto un popolo che dà al popolo stesso la capacità di riconoscersi anche come popolo cioè una condivisione di idee di comportamenti la capacità di dare ascolto all'altro e di essere quindi anche ascoltato tutto questo i costumi nel nostro paese non ci sono non c'è questo senso di di collettività di appartenenza ci sono le tradizioni e gli usi che hanno però una capacità coesiva molto minore sono un collante più fragile perché le tradizioni e gli usi le usanze e le abitudini come lui dice sono locali sono differenziate frammentate eh tanto più nel nostro paese che per ragioni storiche è così diviso dire campanilismo insomma dire un'obvietà nel nostro paese non solo dice nella stessa tra una città e l'altra ma anche tra persone e persone dello stesso posto ognuno ha la sua tende a differenziarsi e fa di questa differenza motivo di astio di contrapposizione quindi non si può far leva sulle usanze sulle abitudini per costruire un'identità forte questa mancanza di costume che diventa poi qualcosa di naturale no? così come ritornando al titolo del nostro incontro oimè il costume c'è l'amarezza anche lì il costume cos'è una tendenza naturale poi costruì non è innata la seconda natura come dice Leopavi ciò che si è andato costruendo ma anche consolidando stratificando che ti porta ad agire così naturalmente diciamo senza fatica invece chi come nel nostro paese noi italiani che comunque Leopardi chiama sempre fratelli o spesso fratelli quindi sente di condividere questa situazione e qui torniamo nella mancanza di sarcasmo ma nella empatia bene quindi il nostro paese non avendo questa comunione di comportamenti di valori in cui ritrovarsi ha poi un'etica civile altrettanto frammentata divisa fragile e soprattutto manca di ambizione ambizione e onore tutte parole chiave in questo discorso Leopardi riporta questi termini alla loro origine semantica è un filologo molto attento che cos'è l'ambizione noi non abbiamo l'ambizione e non abbiamo poi di conseguenza neanche il senso dell'onore l'ambizione certo è un valore se vogliamo anche modesto rispetto all'ambizione del mondo antico che portava gesti di gloria ed era diciamo l'amore di sé l'amore proprio portato al massimo al massimo livello eroico insomma che portava comportamenti eroici noi nel mondo moderno così smaliziato così più anche amareggiato dalla scoperta della realtà così come è lo abbiamo ridimensionato questo concetto dell'ambizione che pur sempre però un vincolo un vincolo capace di legare le persone soprattutto un vincolo e un sostegno potentissimo della società soprattutto quando l'ambizione si esprime nel senso dell'onore il senso dell'onore è proprio la ricerca della stima altrui cioè il far sì che gli altri abbiano di noi una buona opinione e che quindi ognuno funga da modello o da riprovazione per l'altro ma questo presuppone l'essere ascoltati il mettere da parte il proprio egoismo individualistico il proprio narcisismo le proprie miserie piccolezze e dare invece soprattutto ascolto all'altro è un sentimento moderno un sentimento moderno che dovrebbe forse l'ultimo baluardo secondo Leopardi perché una società abbia un minimo di coesione e questo sentimento moderno dovrebbe essere particolarmente diciamo radicato in quella parte di società che lui chiama i meno bisognosi che poi chiama anche società stretta uso sempre i termini leopardiani cerco di sottolinearli perché sono estremamente interessanti questa società stretta che dovrebbe fungere da guida diciamo perché sono i meno bisognosi nel senso che sono quella parte di società che non ha diciamo per condizione economica per condizione anche culturale bisogno di impegnarsi in attività manuali e può dedicarsi invece alle attività più elevate dello spirito alla cultura al confronto delle idee alla progettazione alla guida anche politica quindi ha anche un senso dovrebbe avere un senso di responsabilità bene da noi questa società stretta non esiste non esiste perché anche coloro che vivono questa condizione di non bisogno quindi la borghesia alta borghesia o l'aristocrazia anche questa parte di società vive nell'estremo egoismo e nel gusto tipico di attaccarsi di criticarsi di quindi non essere per niente costruttiva ma invece divisiva queste ragioni possono essere tante sicuramente la ragione che lui ritiene più importante è proprio la natura profonda del popolo italiano che è fatto così anche là dove potrebbe voglio dire esprimersi in un modo diverso quindi questi difetti riguardano tutti quelli quelli che quando lui parla di società stretta ecco volevo soffermarmi un attimo su questo concetto la società stretta lui dice il concetto di società ha due livelli diciamo c'è un livello in senso lato la società larga che è fatta da tutti Lopardi ritiene ed è diciamo tutta la società che cerca di affrontare i bisogni primari che sono quelli del produrre beni far circolare i beni provvedere alla difesa cioè chi vive in un determinato paese questi bisogni sono fondamentali e tutti li avvertono più o meno allo stesso modo e quindi questa è la società intesa in senso largo la società stretta invece è la società che dovrebbe avere più limitata e che dovrebbe avere una 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 intimità un legame più profondo basato appunto sulla condivisione di idee e da noi manca manca questo senso del dell'essere costruttivi già madame destale nella corin aveva detto gli italiani ognuno ognuno fa ciò che vuole la società non si erge a giudice ammette tutto cioè ognuno va per conto suo anzi spesso è pronto cerca di mettersi in evidenza attaccando quell'altro quindi aveva già individuato questi aspetti caratteriali diciamo così è chiaro che quando faccio un'altra piccola parentesi quando Leopardi parla di società stretta dei migliori di quelli che dovrebbero diciamo fungere anche da modello e da produttori di nuove idee cioè è chiaro che c'è dietro una visione liberale non è che siamo ancora il concetto di democrazia anche se dopo un pochino dopo però De Tocqueville parlerà della democrazia eccetera però insomma Leopardi vive prima quando dice queste cose siamo in un periodo insomma precedente Leopardi sa bene che diciamo fare dell'onore del senso dell'onore dell'avere vergogna per esempio quando ti comporti male solo su questo far leva solo su questo una visione della società forse è poca cosa lui stesso dice spesso negli altri paesi ci si vergogna di certi comportamenti di esprimere determinati concetti negativi verso un altro perché c'è questo senso di scandalo certo probabilmente come dire dicevo è poca cosa e lui dice anzi in un passaggio ci si vergogna magari come ci si potrebbe vergognare di mostrarsi con un abito inadatto un abito sporco in pubblico per dire appunto che nella coscienza dell'uomo moderno questo senso dell'onore non è tanto radicato però c'è tranne che negli italiani c'è esiste e dà una sua funzione una sua utilità anche perché alimenta quello che poi è l'opinione pubblica il concetto di opinione pubblica cioè quando ti poni al giudizio degli altri e cerchi di essere al meglio magari privatamente no perché poi c'è anche questo discorso della doppia morale che ci porterà a ragionare della borghesia però nel momento se ragioniamo solo in termini di etica civile sociale e quindi di coesione della società anche questo è l'ultima spiaggia l'ultimo baluardo però ha una sua funzione invece il nostro paese che non ha così forti questi valori cade in ciò che è più gli è più caratteristico quello che lui chiama il cinismo cinismo come lui dice oddio adesso no vado avanti vado avanti le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci quindi nelle classi dei più bisognosi quelle dei meno bisognosi classi alte classi popolari quindi è un dato nella natura del popolo italiano l'essere cinici cioè poco curarsi di dare dei buoni esempi non curarsi del giudizio altrui non avere un'opinione pubblica che pesa che fa da filtro che che punisce anche i comportamenti riprovevoli ogni italiano è legato al suo arbitrio e non è per niente disposto a dare credito agli altri e quindi la superficialità l'indifferenza la derisione anche delle opinioni altrui questo giudizio è pesante molto pesante ma io trovo che sia di grande attualità estremamente e si esprime anche in una vedo ecco gli italiani ridono usa spesso ridono della vita prendono un po' tutto sotto gamba dice forse perché sono anche i più filosofi quasi così a beneficio del popolo italiano dice sono quelli che hanno scoperto l'arido vero che nulla conta l'infinita vanità del tutto e allora prendono la vita così ne ridono assai più e con più verità e persuasione intima di disprezzo e freddezza che non fa niente questo è ben naturale perché la vita per loro va almeno assai che per gli altri e perché gli è certo che i caratteri più vivaci e caldi di natura come è quello degli italiani diventano più freddi e apatici quando sono combattuti da circostanze superiori alle loro forze sono indirettamente proporzionali tanto più sono caldi sentimentali di natura vivace lui dice e tanto più sono si diffusi sono cinici smaliziati scostumati la scostumatezza degli italiani l'unico tono del conversare è ridere prendersi gioco diffidare di tutti è stimato tra gli italiani dice in un passaggio colui che grida più degli altri che dice cose più provocatorie degli altri c'è il gusto di differenziarsi sul nulla tanto per soddisfare il proprio narcisismo insomma è stimato non colui che crea unione ma colui che è divisivo va in primo piano il podio è il suo quindi colui che è estremo violento nel linguaggio a me pare di vedere l'oggi l'oggi ecco quindi è chiaro che Leopardi non usa mai quando parla del popolo italiano la parola nazione perché per nazione intendiamo non un agglomerato sparso di individui ma intendiamo qualcosa di coeso che ha alla base quei costumi di cui parlavamo prima bene allora detto ciò perché ho voluto parlare di questo discorso perché ahimè siamo sempre lì cioè noi che ci consideriamo posteri di Leopardi secondo me dobbiamo un po' rivedere sto concetto di posterità cioè la posterità è un un concetto così puramente cronologico o c'ha qualcosa di più perché ritengo che in realtà noi non siamo affatto i posteri di Leopardi perché il quadro antropologico in realtà non è mutato affatto siamo sempre quelli siamo sempre gli stessi aggravata la situazione direi perché giustamente siamo diventati democratici più o meno la democrazia la stiamo realizzando cerchiamo di difendere non sempre combattiamo per la democrazia ma insomma siamo la democrazia in più ha l'ampliamento un eco eh grazie ai media quindi come diceva eco se prima uno diceva una stupidaggine la sentivano i 4 o 5 al bar oggi la stupidaggine è amplificata è virale quindi voglio dire il la situazione contemporanea se noi guardiamo i nostri giornali ma soprattutto i media ci rendiamo conto di come tutto quello che abbiamo detto di questi difetti siano presenti nulla è cambiato questa riflessione tra l'altro mi è questo discorso della posterità che è solo così un presupposto effimero se non gli diamo un po' di contenuti mentre in realtà siamo contemporanei quindi siamo simili alle leopardi leggendo un saggio uscito nel 2011 cerco di farvelo vedere è il saggio non so se si vede penso di sì è il saggio scritto a quattro mani diciamo così Leopardi Giacomo Leopardi e Franco Cordero Franco Cordero è stato è morto l'anno scorso una delle vittime del covid era anche anziano insomma è morto per il covid comunque un grandissimo giurista polemista giornalista che scrive questo libro mettendo nella prima parte il discorso di Leopardi e nella seconda parte pensieri di un italiano di oggi e ripercorre Cordero la storia unitaria dell'Italia e tutti i suoi mali un popolo con tutti i difetti che abbiamo detto che non sto a ridire ma anche tutti gli eventi storici siamo il paese che ha dato la via al fascismo siamo il paese che ha vissuto anche recentemente un periodo non molto facile cioè siamo quello il paese che crede al padre della patria che segue ciecamente in modo servile ed elega che ci piace andare a votare il giorno delle votazioni adesso ci piace sempre meno ma che poi non partecipa più o partecipa poco che ha questa capacità poi di affidarsi quasi così ciecamente all'uomo forte all'uomo che strilla al tribuno della plebe ecco e quindi mi sembra un libro molto interessante proprio perché che pode questo discorso della nostra contemporaneità con insomma il paese in cui tutto cambia perché nulla cioè non cambia mai nulla anche se cambia tutto non sai come mi viene la frase giusta di 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 cioè di come dire immobile dinamismo perché siamo appesantiti da queste da questa natura diciamo antropologica che ci porta a perseguitarsi scambievolmente gli italiani dice Leopardi gli italiani posseggono l'arte di perseguitarsi scambievolmente e di seppuseabu con le parole di offendersi con il linguaggio violento seppuseabu fino alla fine più che nessun'altra nazione e quindi questa assenza di spirito pubblico secondo me oggi evidentissima ci ha portato a tanti mali questa scostumatezza del nostro popolo credo che bisogna essere onesti e leali dire la verità a costo di essere impopolari ma questo è molto difficile come già diceva Leopardi noi vediamo siamo portati alle divisioni a partire dai partiti politici che si dividono continuamente a fettine ad atomi ormai arriveranno ognuno fa il suo partito ci dividiamo per squadre dall'ambito sportivo all'ambito più alto politico l'ambito culturale tutto questo può essere anche una ricchezza voglio dire una ricchezza di idee di fermenti e forse siamo anche così però poi bisogna tradurre tutto in qualcosa di concreto e allora tutto questo diventa una zavorra se non la sai dominare e noi non la sappiamo dominare perché prevale sempre il nostro così il nostro ambire a essere in primo piano a farci notare ma tutto questo poi porta a una società fragile inevitabilmente a mancanza di senso dello Stato a dare priorità al privato rispetto al pubblico ma porta anche alla corruzione al clientelismo porta alla mancanza di rispetto del merito la cultura ormai è diventata un bene di secondo livello terzo livello non so conta la cultura della strada come dicono nei social adesso non si indica più dove hai studiato cosa hai alla cultura della strada ha un lassismo un permissivismo dalla scuola all'ambito politico all'ambito delle informazioni così volgarmente partigiana così incapace di analizzare i problemi con con serietà quindi ha tutta una serie di di comportamenti che caratterizzano tutti soprattutto diciamo così quello che rimane più grave chiaramente chi ci guida ma chi ci guida poi è lo specchio di chi ha eletto questi personaggi e quindi e poi c'è tutto un tessuto no che si radica nella mentalità comune e questo diventa estremamente pericoloso e dannoso per il paese però ecco nel discorso nel momento in cui Leopardi vuole evidenziare evidenzia senza mezzi termini questi mali questi mali spera anche che si possa cambiare c'è veramente questa disperata fiducia nel cambiamento e e quindi che che il nostro paese possa risvegliarsi possa avviare una strada nuova è il solito come possiamo dire paradosso leopardiano che lega insieme il più rigoroso scetticismo razionale filosofico con però una una speranza una speranza come dire anche disperata sembrerebbe uno simbolo ma effettivamente eh non si abbandona ecco voglio dire il pessimismo leopardiano non è il pessimismo alla foscola il pessimismo dell'individuo titanico che sfocia potrebbe sfociare nel suicidio quindi in qualcosa che non costruisce ma il pessimismo leopardiano si conclude e propone al lettore la social catena della della ginestra ecco io concludo qui vedo che siamo più o meno arrivati credo alla nostra alla fine della nostra conversazione e aggiungo cioè così anticipo che la prossima settimana parleremo di un'operetta morale il dialogo della moda e della morte un'altra operetta che affronta un tema quanto mai contemporaneo cioè la forza pervasiva e persuasiva della moda eh che ci ha trasformato in eh uomo consumatore uomo economico e che quindi ha tutta una serie ci porterà Leopardi a fare tutta una serie di considerazioni che veramente eh ci stupiscono eh perché sono fatte appunto cento novant'anni quante insomma fa e invece sono validissime eh anche oggi che Grazie.